Bene, iniziamo oggi la introduzione alla teoria della gravitazione universale, che è probabilmente uno dei argomenti chiave di tutto il corso di fisica. Perché? Perché in realtà è in questo contesto, cioè nel tentativo, nella ricerca da parte dell'intelletto umano di capire come funziona il cosmo che nasce gran parte del nostro modo attuale di vedere il mondo, cioè nasce il pensiero scientifico. Quindi è un punto cruciale. E quello che vi inizierò a presentarvi oggi è il frutto di diversi anni di ricerca e di lavoro, non lo trovate sui libri di testo, la versione moderna della cosa, e consterà di tre lezioni, questa è solo la prima parte. Cominciamo con una data, una data importante. L'anno prossimo tra l'altro ricorrerà il sessantesimo anniversario. Il 12 settembre 1962, la loro Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, incontra gli studenti della Rice University a Houston, nel Texas, e fa un discorso storico. Ve lo presento in breve qualche frammento. Ma perché alcuni dicono la luna? Perché選iamo questo come il nostro obiettivo? E potrebbero chiedere, perché ascoltare il più alto? Perché 35 anni fa? Perché l'Atlantico? Perché la Rice gioca a Texas? Abbiamo chiesto di andare alla luna. Abbiamo chiesto di andare alla luna in questa decennia e fare altre cose. Non perché sono semplici, ma perché sono difficili. Perché questo obiettivo servirà a organizzare e a mesurare il meglio delle nostre energie e capacità. Perché questo obiettivo è quello che siamo disposti di accettare, quello che siamo disposti di impostare, e quello che intendiamo di venire, e gli altri anche. Ci premiamo qui, vi lascerò il link per vedervelo tutto, non è molto lungo. La cosa importante che dice il Presidente è questa. Abbiamo deciso, abbiamo scelto di andare sulla luna, non perché è un compito facile, ma perché è un compito difficile. Secondo gli storici della scienza è il compito più difficile che l'umanità abbia mai intrapreso e concluso. E ciò che ci ha portato da questa immagine, cioè da vedere la luna dalla terra a questa, è secondo me un'avventura, nel vero senso della parola, sia fisica che intellettuale, di enorme importanza. Ed è un percorso che l'umanità ha intrapreso da tantissimo tempo. Parte essenziale di questo, cioè il nodo cruciale che ha reso possibile tutto questo, è la conoscenza di come i corpi interagiscono l'uno con l'altro nello spazio, cioè il concetto di gravitazione universale, qui racchiusa in una formula che discuteremo a lungo, è attribuita a Newton. Qui vedete qui sotto c'è la statua di Newton al Trinity College in Inghilterra, dove c'è la scritta sotto in latino, presa dalla vera incominatura di Lucrezio, dove ci dice che Newton ha superato in ingegno l'intero genere umano, probabilmente il più grande scienziato mai esistito, mai vissuto, e la sua opera, le idee, i principi di matematica sono il libro scientifico più importante mai scritto. Come gli è venuta quest'idea? Questo è il punto nodale che mi preme comunicare, perché le buone idee non nascono dal niente. Se uno pensa che le buone idee nascano dal niente, allora sarà molto difficile avere delle altre, invece hanno una lunga storia. Classicamente l'aneddoto che si racconta è che Newton sotto l'albero di mele, davanti vicino a casa sua, ha visto la mela cadere e ha avuto la folgorazione. In realtà questo non sta assolutamente in pieno, perché se uno è interessato a solo come cadono le mele, la teoria istotelica va più che bene. Quindi c'è molto altro sotto e spero di riuscire a comunicarvelo. Affronteremo una serie di domande che l'uomo si è sempre posto, da che esiste. La prima è, indaghiamo come è fatto il cosmo, perché quello che ci sta davanti agli occhi è fatto come è fatto, perché funziona così. E la risposta a questo tipo di domanda, per la maggior parte della storia dell'umanità è stata di tipo mitico, cioè legata all'intervento di divinità. Qui avete, qui in alto a destra, c'è il papiro di Greenfield, datato 1260 a.C., dove era criulato, secondo la cultura egizia dell'epoca, come è fatto il cosmo. C'è il cielo rappresentato da una divinità femminile, la dea nut, normalmente in altri papiri costellate di stelline. Sotto sdraiato per terra c'è Gebbe, il dio della terra, e su un'altra divinità si incarica di sorreggere il cielo. e questo tipo di struttura appare in moltissime culture, quasi tutte. Si vede l'Egitto che abbiamo appena visto, la Norvegia, le culture indiane, il Maya, gli Inca, gli indiani navacoli, la cultura ebraica. La visione moderna della terra è il frutto di un percorso culturale complesso, qui ovviamente gli americani un po' così hanno messo la NASA, ma in realtà sono i pitagorici che hanno scoperto la terra e la tonda. Quindi possiamo accumulare tutte le risposte date fino a una certa epoca, come una struttura di questo tipo, un cosmo finito con una terra piatta, forma di disco, circondata dal mare e sorbontata da una calotta sul quale erano incastonate le stelle. Questo pone la direzione, per esempio, verso il basso, verso cui cadono i corpi, la stessa dappertutto, c'è una distinzione ben netta tra ciò che è il cielo e ciò che è la terra, però lascia aperte diverse domande, per esempio, che fine fa il sole di notte? Dove va? Secondo gli Egizi prendeva una barca a Oriente e faceva il giro dell'intero disco terrestre, risaliva a Occidente il giorno dopo. E se tutto cade verso il basso è perché la terra non cade. Qualcune culture mettono sotto colonne, altri elefanti, altri alberi, dove gli eserano algebri e gli adicenti. La prima svolta verso il nostro mondo di vedere il mondo avviene in Grecia, in realtà in Asia è minore, ma in un'area di cultura greca, verso la caballo tra il VI e VII secolo avanti Cristo, dove un pugno di persone cominciano a pensare alla natura in termini naturali. Il primo che lo fa è Anassimandro, nativo a Mileto, in Asia minore. E uno storico romano, Plinio, dice che lui è stato il primo ad aprire le porte della natura, cioè trovare la via per comprendere la natura. E che cosa ha fatto in particolare? Ha cominciato a pensare che le cose non capitano perché interviene una divinità, ma qui vi assumo alcuni frammenti dei suoi testi, per la maggior parte perduti. Ha cominciato a pensare ai fenomeni naturali spiegati in termini naturali, secondo necessità, cioè ci sono delle leggi che regolano i fenomeni naturali. E secondo l'ordine del tempo, cioè ognuno è concatenato con quello che segue. In particolare è il primo che afferra o intuisce o pensa che in realtà la Terra galleggia nello spazio, non è un disco piatto su cui è montato il cielo, ma abbiamo cielo sopra la testa ma anche sotto. Come fa ad arrivarci? Beh, immaginate, di qui c'è una foto a lunga esposizione con delle stelle che ruotano attorno alla stella polare e lasciano una traccia. Qui vedete per esempio che questa sparisce dietro la montagna e dopo riappare poco più in là. Perché? Perché passa dietro la montagna. Ma se vale per questa stella, perché non vale per quella più in sotto e così via? Lino a tutte quante le altre. Quindi quelle che tramontano all'orizzonte, in un angolo del nostro orizzonte, risalgono dall'altra parte, come il Sole, non fanno altro che girare sotto la Terra. Quindi abbiamo cielo sopra la testa ma anche sotto. Per cui la sua visione del cosmo era questa, la Terra è un cilindro, cioè un pezzo di roccia che galleggia nello spazio e non cade perché non ha nessun motivo di cadere. E quindi abbiamo cielo sulla testa e anche sotto, sormontato da questa calotta, questo disco che mantiene le stelle, che regge le stelle. Quindi in questo contesto la direzione alto-basso o su-giù è relativa perché nel nostro disco l'alto è verso il cielo ma anche in quello sotto. Quindi la direzione alto-basso o su-giù sono equivalenti. Quelli sotto sono quelli che noi chiamiamo antipodi. La generalizzazione tra l'equivalenza alto-basso a tutte le direzioni è stata fatta una generazione successiva con la scuola pitagorica. Per cui l'unico solido che aveva tutte le direzioni come equivalenti è la sfera. Da lì in poi nessuno ha avuto più dubbi che sul fatto che la Terra fosse una sfera. Quindi nella prima generazione nessuno ha più dubbi su questo e nessun altro popolo è arrivato a questa conclusione. Attenzione siamo nel V secolo a.C. Quando vi raccontano la storia che Cristoforo Colombo ha avuto difficoltà ad avere le caravelle per andare nelle Indie perché pensiamo che la Terra era piatta, questo è falso, è un falso storico. Tutti in quell'epoca sapevano benissimo che la Terra era tonda, lo sapeva anche Dante che è il motivo per cui ha avuto difficoltà a prendere le caravelle, è un altro, magari ne discuteremo un'altra volta. E anche all'epoca si davano diverse motivazioni del fatto che la Terra è una sfera, a parte questa intuizione di Arnassimandro e dei pitagorici. Per esempio se sono sulla costa e vedo una nave che si allontana, la prima parte che sparisce è lo scafo. Perché? Perché lo scafo è la prima parte che va sotto l'orizzonte, l'ultima parte che sparisce invece è la vela, proprio perché la Terra è curva. Questo è uno dei motivi classici che stanno a sostegno della curvatura della Terra, già in Strabone nel secondo secolo dopo Cristo. Questo li raccoglie anche Tolomeo nell'alba gesta. Oppure per esempio l'ombra che la Terra proietta sulla Luna durante l'eclisi, è un profilo curvo. Non sarebbe così se la Terra fosse un disco, aveva una forma completamente diversa. Oppure ancora le diverse fette di cielo che vediamo spostandoci nella direzione nord-sud. Per esempio se sono nel punto A, la stella 1 la vedo, la 2 no, perché è sotto l'orizzonte. Se vado verso nord, vedo sia la stella 1 che la stella 2. Questo è legato al fatto che la Terra ha una superficie curva, se no non sarebbe così. Il primo che sistematizza questo, che raccoglie queste informazioni e dà una visione organica sistematica del cosmo, è Aristotele nel decelo e nella fisica. Secondo la sua visione, l'universo è fatto da luoghi speciali. Ci sono luoghi che hanno particolari proprietà. Uno in particolare è quello di attirare i corpi pesanti. Ed è per questo che la Terra, in quanto pesante, si addensa attorno a quel punto. Per cui la Terra è ferma al centro dell'universo, nel punto in cui si addensano tutti i corpi pesanti. Quindi costituisce un sistema di riferimento privilegiato, assoluto. È per sua definizione, per sua natura, ferma, immobile e tutto le ruota attorno. E l'universo è finito, è fatto in questa struttura. La Terra è al centro, tutto ciò che c'è sulla Terra è fatto di quattro elementi, acqua, terra, aria e fuoco. Tutto ciò che è fuori della Terra è fatto di quintessenza, cioè qualcosa di completamente diverso. Segue regole completamente diverse. La quintessenza non è né leggera né pesante, quindi secondo me per questa ragione non cade verso la Terra. Fino alla sfera delle stelle fisse, che chiude il tutto e ruota attorno, tutta ruota attorno alla Terra di velocità diverse. Visioni molto diverse da questo, una visione completamente diversa dello schema aristotelico, che è già presente all'epoca di Aristotele stesso. Il pensiero razionale nato con Anassimandro fa un salto di qualità durante il periodo ellenistico, che secondo gli storici va dalla morte di Alessandro Magno fino alla conquista romana dell'Egitto. In questo periodo c'è un grandissimo sviluppo della conoscenza in ambito scientifico, matematica, fisica, astronomia, medicina e molto altro. In particolare c'è la prima misura, molto precisa, di quanto grande è la Terra. Abbiamo già visto come si arriva a dire che è una sfera. Allora possiamo pensare di misurarne la grandezza. Quanto grande è questa sfera? Non possiamo certo andare a prendere un righello e misurarla in modo diretto. Chi fa la misura era Tostene, che era il direttore della biblioteca di Alessandria, il quale osserva che nello stesso giorno dell'anno, in due località diverse, a Dassuan e ad Alessandria, l'ombra proiettata da un oggetto sulla Terra, è di lunghezza diversa. Da Dassuan e l'ombra è nulla, perché il Sole è perpendicolo, mentre ad Alessandria forma un determinato angolo. Utilizzando un modello geometrico molto semplice, che di solito si vede, cioè il criterio di parallelismo tra rete, che si vede nella geometria del biennio, si riesce a misurare, in virtù della misura di questo angolo proiettato dall'ombra, la corrispondente lunghezza della distanza lungo la superficie terrestre da Dassuan e ad Alessandria e con una proporzione si ha un'idea della lunghezza della circonferenza terrestre e quindi del raggio terrestre. La misura fatta dai lati ostri rispetto a quella attuale ha una differenza di meno dell'1%. E notate bene che non usava il computer o altri sistemi di calcolo sofisticati come vediamo oggi. Ma per quale ragione la Terra è una sfera? Anche a questo risultato arriva la scienza ellenistica, in particolare Archimede, e ci arriva mentre si occupa, studia il perché i corpi galleggiano. Pensate alla stranezza, uno si occupa di capire perché le navi galleggiano e capisce perché la Terra è tonda. E lo spiega nel suo trattato sui galleggianti. Il principio di Archimede, che è molto diverso da quello che adesso viene indicato sui testi di fisica, è un principio molto semplice, dice che se sono in un liquido, parti diverse del liquido hanno compressione diversa e se hanno compressione diversa quella più compressa preme via, ma scaccia via quella meno compressa. Quindi il fluido si muove da dove c'è pressione più alta e dove c'è pressione più bassa diremo noi oggi. E la pressione o la compressione di una porzione di fluido dipende da quanto fluido ha in verticale sul punto che sto considerando, cioè da quanta acqua sulla testa. In base a questo è abbastanza semplice dedurre perché la Terra è tonda. Il concetto di quant'acqua ho sulla testa in verticale in realtà presume, si colloca dentro un contesto aristotelico dove in realtà il centro dei pesi è il centro della Terra e quindi la verticale fa la porzione di linea della semiretta che esce dal centro della Terra e passa sulla verticale del punto in cui mi trovo. Immaginate che una sfera, questa sfera tratteggiata rappresenti la Terra, K è il centro dei pesi, quindi il centro della Terra e così teniamo due punti che abbiano diversa quantità di fluido o di acqua sulla loro verticale. Ora il punto A è meno compresso del punto B secondo il principio di Archimede perché sopra di A c'è meno acqua, cioè c'è un tratto più piccolo. Quindi se B è più compresso B scaccia via l'acqua da questo punto verso A finché i due livelli non si equilibrano e quindi l'unica configurazione di equilibrio, cioè quella in cui tutti i punti della superficie sono alla stessa pressione, è quella sferica. Per cui se l'acqua fosse un globo fluido non potrebbe che essere sferica. E questa è la spiegazione del fatto che la forma della Terra è una sfera. Però era ben chiaro anche all'epoca che la Terra non era tutta fatta di acqua, ma una buona porzione è fatta di roccia, di terra, di solida. Quindi questo cosa significa? Siccome all'epoca e anche adesso la Terra è una sfera e sarebbe una sfera se fosse fluida, evidentemente quando la Terra si è formata era fluida. Quindi anche la roccia a quell'epoca era fluida e applicando i principi di Archimede a quell'epoca si è formata un qualcosa che essendo fluido è diventato sferico, si è solidificata successivamente. E questa conclusione si trova in diversi autori all'epoca del primo secolo a.C. Quindi anche a quell'epoca si è usato questo principio, cioè essendo sferica ed sarebbe sferica se fosse un fluido, ergo anticamente era un fluido. Quindi nel derivo informazioni sulla storia geologica della Terra. Quindi nasce l'indagine non solo su perché la Terra è fatta così, ma come era quando si è formata. Questo però mette in crisi la visione aristotelica del cosmo. Perché? Se abbiamo visto che il principio di Archimede, quindi la deduzione del perché la Terra è tonda, una sfera, è legata al fatto che il centro della Terra è il centro dei pesi, dove si addensano tutti i corpi pesanti, allora l'unico oggetto che dovrebbe essere sferico è la Terra. Perché se si forma nel centro dell'universo dovrebbe essere solo la Terra sferica e invece non lo è. Perché sono sferiche sicuramente anche la Luna e anche il Sole. E quindi si passa da la teoria aristotelica con un solo centro che attira i pesi, ha una teoria policentrica. E questo è già presente in Plutarco che scrive attorno tra il primo e secondo secolo a.C. E dice che ognuno dei corpi celesti, la Terra come il Sole come la Luna, attira sei corpi, gli oggetti di cui è fatto. Non c'è un solo centro di attrazione, ma ce ne sono tanti. Perché anche gli altri corpi, anche la Luna è una sfera. Quindi anche l'unico si dovrebbe applicare, quanto proposto da Archimede, sull'origine della sua forma, idem per il Sole. Però anche questo entra in crisi. Perché siccome ci sono più mondi e di conseguenza ognuno attira i corpi di cui è fatto, questi centri non sono però fermi, sono in moto. Quindi non può essere un luogo che attira i corpi, perché se fosse un luogo starebbero tutti fermi. Che poi sia la Terra che si muove o sino gli altri, poco importa. Non sono tutti fermi. Quindi entra in crisi anche l'oggetto, l'idea aristotelica del fatto che è un luogo che attira i corpi. L'unica conclusione è il fatto che sono i corpi adatterare gli altri corpi, non i luoghi. È chiaro il concetto. Quindi essendo più corpi tondi, più sferici e quindi essendo ognuno di questi corpi centro di attrazione gravitazionale, diremmo oggi, siccome alcuni sono in moto e altri no, non può essere un luogo che attira i corpi, perché se fosse così sarebbero tutti fermi. E quindi anche questa visione, la visione che ci sono luoghi speciali nei corpi che attirano i corpi pesanti, viene superata, viene abbandonata. Sono in realtà i corpi che attirano altri corpi. Ma allora ha senso chiedersi se c'è attrazione tra corpi celesti diversi. La risposta è sì, in particolare tra la terra e la luna. Quello che vi sto raccontando viene tutto documentato dai testi che vi sto mostrando, ma non vi do l'interpretazione anziché andare a leggere e a commentarli ognuno per uno, perché altrimenti non finiremo mai più. C'è questo brano sempre di Plutarco, che è un brano che lui scrive appunto tra il primo e il secondo secolo, che parla della luna e dice che la luna si muove attorno alla terra paragonandola a quello che succede con una fionda, che era una cosa molto comune, era un'arma per esempio nell'esercito della fionda. Uno prende un sasso, lo lega alla fionda e la fa ruotare. Ruotando, cos'è che fa ruotare il sasso attaccato alla fionda, è la fionda stessa. Se io lo lascio andare, il sasso seguirebbe quello che lui chiama il moto secondo natura, ma chiunque abbia mai usato una fonda sa che se io lascio andare la fionda, il sasso va lungo la linea retta. Mentre per deviare il moto dalla linea retta ho bisogno di un'azione, in particolare la tensione della fune della fionda. E quindi dice, Luca, quella luna, attenzione, non segue il suo peso. Anche questo è un punto fondamentale, perché nello schema aristotelico questo sarebbe inconcepibile, perché la luna non pesa, essendo fatta di quintessenza. Affermare che la luna non segue il suo peso, significa superare il punto di vista aristotelico, cioè immaginare che anche la luna ha un peso, e il peso della luna è rispetto alla terra, cioè la terra che produce, che agisce sulla luna in modo tale che la attira a sé, come attira tutti i colpi di cui è fatta, come la mano del tizio che fa girare la fionda tiene il sasso lungo la traiettoria circolare. E quindi questo testimonia che già all'epoca il punto di vista del modello aristotelico, del come funziona il mondo, era superato e come. Qui vi porto un disegno di Newton, questo è preso dal libro di Newton, e c'è una simulazione che ho preso da internet in cui Newton dice, motiva o illustra il brano che abbiamo appena letto di Plutarco, se io lancio una pietra da una montagna, a seconda di quanto velocemente la lancio, può cadere sempre più avanti. E c'è una velocità, che viene disegnata, oltre la quale la caduta verso la superficie della terra e la velocità orizzontale, quindi tanti insieme alla terra, sono tali che la pietra non ha più tempo di cadere, ma segue una territoria circolare, quindi tra virgolette diremmo noi oggi entra in orbita, ed è proprio il peso della pietra in questo caso, o della luna nell'altro, che fanno seguire alla pietra e alla luna la traiettoria che segue, cioè il moto circolare attorno alla terra, alla sua orbita circolare. Dipende quindi dalla velocità e dipende dalla combinazione tra la tendenza a cadere verso la terra e la tendenza a procedere lungo la linea retta. Ma vale anche l'inverso, abbiamo visto adesso che la luna trae la terra, ma anche la terra trae la luna, ma anche la luna trae la terra, se siccome e perché, ce lo mostrano le maree, le maree sono la chiave per interpretare la reciprocità della trazione. Grazie. Dopo che Archimede ha dimostrato che la terra è una sfera, Eratostel lo ha criticato, quindi non è vero che la terra è una sfera, perché se ci fosse una sfera perfetta, le maree non esisterebbero. E quindi il profilo degli oceani, siccome cambia, non può esserci in gioco solo la trazione gravitazionale terrestre, ma c'entra anche la luna, la luna ha un ruolo in questo. E un altro studioso delle maree molto importante è Seleuco, che è vissuto circa nello stesso periodo, nel secondo secolo a.C. E lui nota, per esempio, che le maree hanno ampiezze diverse a seconda che la luna e il sole siano in congiunzione o in quadratura, ok? Perché quando sono in congiunzione, cioè chiungo la stessa retta col sole, allora l'effetto del sole e della luna si sommano, quindi l'ampiezza è più grande. Quando sono perpendicolari, cioè la congiunzione luna-terra e terra-sole sono a 90 gradi, i due effetti si smostra l'uno con l'altro e quindi l'ampiezza delle maree è più piccola. Quindi è notato l'importanza del ciclo annuale, quello col sole, e del ciclo mensile, quello con la luna. Non solo, ma c'è un brano in cui dice che in realtà non è solo la luna che gira attorno alla Terra, ma la Terra compie un moto vorticoso. Questo moto vorticoso si può interpretare dicendo, secondo poi l'attuale teoria delle maree, anche la Terra si muove, perché in realtà il sistema Terra-Luna ruota attorno a un centro comune, il centro di massa di questo sistema. Non è solo la Terra che ruota attorno alla Luna, ma anche la Terra si muove. Questo suo moto vorticoso ha un ruolo importante nell'interpretazione delle maree. Se non ci fosse le maree sarebbero diverse. Non solo, ma studiando le maree, sempre Seleuco riesce a dimostrare l'esistenza di un continente tra i due cieli, tra la costa atlantica e quella dell'Asia. Perché? Perché le maree hanno ritmi diversi, hanno periodi diversi, hanno ampieze diverse. Se Seleuco dice se non c'è un continente in mezzo, questo è inspiegabile. Quindi riesce a dimostrare di dura l'esistenza di un continente molto prima che fosse esplorato o scoperto da Colombo. In realtà già in epoca antica il continente americano era conosciuto perché ci sono monete cartaginesi trovate nei Caraibi. Quindi sicuramente l'esplorazione è avvenuta in epoca molto più antica. Lo stesso concetto, la stessa importanza delle maree per dimostrare che la Terra si muove per ripresa da Galilei, nei massimi sistemi sullo che Galilei non cita Seleuco. Parla di un antico matematico che aveva utilizzato il fenomeno delle maree per dare dimostrazione del moto della Terra. Ok, la Luna si muove attorno alla Terra, la Luna attrae la Terra, attrae la Terra, attrae la Luna, ma gli altri pianeti? Beh, i pianeti, la parola stessa pianeti, significa vagabondo, diversamente da tutto il resto delle stelle, dette fisse, che ruotano insieme attorno alla Terra, i pianeti hanno traiettorie piuttosto strane, qui vedete la traiettoria di Marte, che fa delle stazionamenti, cioè si ferma, retrogradazione, torna indietro e poi riprende il suo moto. Qui c'è un'animazione che ve lo mostra. Questo è il moto di Marte in cielo, lungo un periodo adeguatamente lungo. Ok? E questo è difficile da spiegare in termini geocentrici. Ok? È molto più facile comprenderlo in termini eliocentrici. Il primo che propone questo modello, il modello eliocentrico per interpretare le retrogradazioni parlamentarie è Aristarco di Samu, anche lui vissuto in epoca ellenistica. E dice che non solo la Terra ruota attorno al suo asse, per spiegare il moto delle stelle fisse, ma in realtà ruota anche attorno al Sole. E questo rende più semplice interpretare il moto, tra virgolette, strano dei pianeti. Qui vedete un'animazione che vi mostra in pratica questo modello. Cosa ce la facciamo? Qui sotto c'è l'orbita della Terra, questa è la traiettoria di Marte, questa è la proiezione della posizione di Marte in cielo. E questo è il risultato della posizione relativa, come cambia nel tempo la posizione relativa, della posizione di Marte rispetto alla Terra nel corso della loro orbita. In questo vedete che man mano che la Terra procede, essendo più veloce di Marte, a un certo momento sembra che Marte si fermi e torni indietro. Andiamo un pochino più avanti, c'è un modello molto semplice, questa piattaforma tonda, quel Sole al centro, questa pallina è la Terra, questo è Marte, c'è un sistema di ingranaggi che li fa ruotare, e possiamo registrare le posizioni degli astri nel corso della loro orbita. Questo è facile vedere che, ecco dietro c'è l'ingranaggio che li fa muovere, vediamo se qua veniamo a muovere qualche istante, mentre va avanti, si ferma e poi torna indietro. apparentemente, quando sono in opposizione, e poi li procede sempre verso est. Ma questo è un effetto apparente di proiezioni e di posizioni reciproche sulla sfera celeste, in realtà non c'è una fase in cui Marte si ferma o torna indietro, è quello che vediamo noi dal nostro punto di vista, e questo sistema lo interpreta abbastanza facilmente. e qui c'è un altro brano sempre di Plutarco in cui dice che, mentre Aristarco aveva ipotizzato il fatto che la Terra ruota attorno al Sole, Seleuco l'ha dimostrato, cioè è riuscito a dimostrarlo, a darne prova fisica utilizzando appunto le maree. Come si colloca questo in relazione alla forza che attira i corpi celesti diversi? Beh, qui c'è un brano invece di Seneca, studioso romano, di epoca imperiale, che è la chiave per interpretare dinamicamente il moto dei pianeti attorno al Sole. e dice non è possibile che i pianeti in cielo si fermino, questo è solo apparente, perché una volta che sono messi in moto, questo moto non può essere fermato e poi riprendere, è solo che noi lo vediamo da quel punto di vista, perché se si fermassero precipiterebbero gli uni sugli altri. Questo è un punto nodale, perché? Perché i pianeti dovrebbero precipitare da fermi gli uni sugli altri, solo se si attirano tutti quanti l'uno con l'altro, cioè solo se la trazione che c'è tra la Terra e la Luna e tra la Luna e la Terra c'è anche tra tutti i pianeti, non solo tra quel Sole, ok? E quindi invece noi li vediamo fermarsi, dice sempre Seneca, solo perché è un effetto apparente, è un'illusione, come quando, che ne so, sei su una nave veloce, anche se una nave vicino a te è un pochino meno veloce di te ha sempre che da un'altra nave vada indietro, ma in realtà è un effetto di moto relativo, è una apparenza, ok? Da qui è chiaro che corpi diversi del sistema solare si attraggono tutti gli uni gli altri, cioè non solo si attrae la Luna con la Terra o la Terra con il Sole, ma tutti i pianeti, tutti i corpi attirano tutti gli altri, cioè la gravitazione è universale, ok? Poi qui c'è un altro brano, questo non so se andrò veloce su questo, che afferma il ruolo predominante del Sole, perché? Perché il Sole oggi sappiamo che è il corpo più massiccio del sistema solare, ed è curioso il fatto che si acceni a questi raggi a forma di triangolo, ok? Evidentemente, e c'è un altro brano anche di Plinio che afferma la stessa cosa, evidentemente hanno visto nei trattati di astronomia dell'epoca una figura tipo questa, dove in H c'è il Sole, in H c'è il Pianeta e quello che lega il Pianeta e il Sole è questo tipo di disegno che sembra un raggio triangolare, in realtà è la composizione tra il moto rettilineo che il Pianeta seguirebbe come la fionda, se non ci fosse la fune della fionda, e il moto di caduta verso il Sole, questo della freccia azzurra, il moto circolare posso sempre pensarlo come una combinazione di un moto tangenziale e di un moto radiale, ok? Un altro pezzo fondamentale è il brano seguente, che viene invece dal Red dell'Elluminatura di Lucrezio, il cui manoscritto originario è stato trovato nel 1417, in Germania, e qui si dice che l'universo non può essere finito, perché? Perché se fosse finito, già da tempo tutti i corpi che lo compongono sarebbero ammassati in un unico punto, per reciproca attrazione gravitazionale, ok? E quindi l'universo non esisterebbe più da un sacco di tempo, non esisteremo neanche noi. L'unica possibilità per cui esista è che sia infinito, perché se fosse finito sarebbe già tutto collassato, caduto, uso ovviamente un linguaggio letterario per divulgare questa conoscenza, ok? Ma già qui, anche qui in questo brano, come in quello di Seneca, c'è l'idea che tutto attira tutto il resto, non solo luna sole o terra sole, perché la gravitazione è una forza universale, che riguarda tutti i corpi nell'universo. E un altro punto a favore dell'interpretazione dinamica del sistema, della struttura del corpo è questo, questo semplice è un commentatore di Aristotele, in circa 7 a 7 a.C., e dice che Iparco, che è uno dei più grandi astronomi dell'antichità, aveva affermato che i corpi più si allontanano dalla Terra, più sono pesanti. E questa è un'idea molto strana, perché se io mi allontano dalla Terra, abbiamo già visto per esempio i filmati delle navicelle spaziali, l'alterazione gravitazionale terrestre diminuisce. L'unica situazione in cui allontanandosi dal centro della Terra aumenta, è l'interno della Terra. Ok? E, infatti mi spiego a mostrarvi questo, che cosa succede all'interno della Terra? Se io prendo un oggetto sferico come la Terra e vado all'interno, supponiamo che la distanza sia costante, man mano che mi addentro verso il centro della Terra, la forza di gravitazione a una distanza R dal centro della Terra, dipende da quanta massa c'è tra la mia posizione e il centro. Quindi più mi avvicino, meno massa produce l'alterazione gravitazionale e meno il mio peso. Se osservate questa simulazione che ho prodotto proprio per questo scopo, mettiamo una pallina sulla superficie della Terra, immaginiamo di fare un buco fino all'altro punto di diametramento opposto. Visualizziamo la forza di attrazione gravitazionale, se io lascio la pallina a cadere, man mano che si è vicina al centro, la forza diminuisce, perché è affetta l'effetto di una porzione di Terra sempre più piccola. Idealmente quando è al centro la forza sparisce, non c'è più. E poi spostandosi dall'altra parte per inerzia continua al suo moto, arriva dall'altra parte e la forza riassume il suo valore di partenza, ma diretta nel senso apposto. E se io lascio questo moto che va davanti, trascurando l'attrito ovviamente, diventa un moto oscillatorio, un moto periodico. Ma questa conclusione, questa osservazione, questa idea, è uno degli esercizi che si fa di solito nei primi anni del corso di fisica. Ecco, cosa succede a una pallina se potesse attraversare la Terra, un moto armonico. Non è possibile arrivare a questa conclusione se uno non ha un'idea molto precisa di come è fatta la forza di attrazione gravitazionale. Ok? E che se fosse arrivata a questa conclusione, era nella diapositiva di prima, è in questo pezzo sempre di Pultarco, nella sua opera sulla luna. E lui la cita come paradosso. Dice, inutile che vai in cerca di tante cose strane. C'è qualcuno che pensa che se tu mettessi un sasso e lo facessi cadere verso la Terra, questo sasso aderebbe avanti e indietro, continuamente oscillando senza fermarsi. E quindi cita un'affermazione fatta evidentemente da chi queste cose le aveva studiate, che per lui si invece è paradossale. E ripeto, questa è una situazione incessante e perpetua. Per cui l'idea di come funziona l'atterazione gravitazionale era molto ben nota nell'epoca, anche se questa ricostruzione che vi ho proposto in realtà è equivalente a, immaginate che tra 300, 400, 500 anni qualcuno cerchi di costruire la scienza della nostra epoca sfruttando testi divulgativi, oppure qualche telegiornale, oppure le trasmissioni tipo 4 o cose del genere. Ne ha un'idea certo, ma non ha gli aspetti tecnici fondamentali, ha un'idea divulgativa, quindi qualitativa. Però nessuno può arrivare a questa conclusione, cioè il fatto che un sasso che cadrebbe, che cada attraverso la Terra ha un moto oscillatorio armonico senza avere un'idea molto precisa di quello che c'è sotto. Il fatto che uno lo dica significa che qualcuno l'ha studiato e è arrivato a quella conclusione, altrimenti non ci sarebbero mai. Un altro punto fondamentale, questo mi pare che sia l'ultimo, ma siamo in tempo, sì, è quello relativo alle stelle fisse. Che la presenza, l'idea della terra delle stelle fisse nasce dal fatto, cioè ha un senso quando nel sistema geocentrico. Perché io vedo tutte le stelle che ruotano attorno alla Terra, quindi posso immaginare che sono tutte alla stessa distanza e ruotino orientatamente. Una volta che ho accettato il concetto che la Terra si muove, la sfera delle stelle fisse non ha più nessun senso. E che questo anche l'idea fosse superata ce lo dice un astronomo di Rodi, Gemino, il quale nel suo libro del I secolo a.C., dopo Cristo, scusate, che racconta l'introduzione ai fenomeni. Il fenomeno in greco significa ciò che appare, quindi ciò che osserviamo. Dice che in realtà la stella delle stelle fisse è una comodità, ma non è niente di reale. Perché in realtà le stelle sono tutte a distanze diverse. Si parla della sfera delle stelle fisse solo per semplificare la cosa, ma in realtà era ben consapevole il fatto che fosse un'astrazione, un'illusione, una cosa di comodo, ma tutt'altro che reale, come convenzionale. Nella prossima lezione vedremo che anche il parco ha un ruolo importante in questo, ideando quello che probabilmente è l'esperimento più lungo della storia della scienza, che ha durato quasi 22 secoli. Siamo alla conclusione di questa prima parte. Abbiamo visto diversi punti cruciali. Abbiamo capito che la Terra è una sfera. Quanto grande è questa sfera? Perché è una sfera? Se sta ferma e se si muove, perché si muove e come sono in relazione con i corpi nel cosmo l'uno rispetto all'altro, cioè l'idea dell'attrazione che sia gravitazionale universale e che il concetto della sfera delle stelle fisse era già superato nell'antichità. Quindi abbiamo visto tre punti nodali, tre rivoluzioni su cui è basata la nostra visione del mondo. la Terra non è il centro dell'universo, in realtà il centro dell'universo non esiste. L'universo è infinito, ok? E tutti i corpi si attraggono l'uno con l'altro. Quindi siamo arrivati, ripeto, storicamente all'epoca di parco, quindi 120-160 a.C. la prossima lezione vedremo come queste idee arrivano a Newton. Ok? Se ci sono domande, se non c'è domande mi fermo qui. Ok? Bene.